Ciao a tutti amiche amiche io sono JohnnyLGD e benvenuti bentornati ancora una volta sul nostro canale Oggi siamo qui per un breve video ma ragazzi importantissimo quindi guardatelo fino alla fine Come mai vedete Condemned in sottofondo è molto molto semplice Chiunque sta seguendo il nostro canale sa che Condemned è la nostra serie attiva Ma mi sono reso conto di una cosa, è arrivata l'episodio numero 9, so che sta per finire Quindi cosa ho pensato bene il vostro Johnny? Di aprire una nuova serie Ma stavolta sarete voi a scegliere il titolo Sto per elencarvi 6 possibili giochi Qui sotto nei commenti ragazzi scrivetemi le vostre due preferenze di questi 6 giochi E quello che avrà raggiunto più voti nell'arco di una settimana dalla pubblicazione di questo video Diventerà la serie attiva sul canale che porterò in contemporanea con Condemned Il primo titolo di oggi è Dead Space 1 Come mai ho scelto Dead Space 1 ed è non Dead Space 2 o Dead Space 3 o il 5 o l'8? Molto molto semplice ragazzi perché tutti ormai sanno e tutti dicono che Dead Space 1 è il titolo migliore della serie Come secondo titolo di oggi c'è Fear 3 E anche qui come mai ho portato il 3 e non l'1 e il 2 Lo so ragazzi per molti sto per bestemmiare Penso che Fear 3 sia il più bello della trilogia Come terzo titolo restiamo in tema horror con Obscure 2 Ragazzi è un titolo di cui mi sono innamorato sin da quando ci ho giocato la prima volta su Playstation 2 So che si può giocare in 2 quindi ragazzi non so se qualche video uscirà con Donitos Questo è ancora da vedere Quindi mi raccomando se volete Obscure 2 come prossima serie scrivetemelo qui sotto nei commenti Alice Madness Return Non so quanti di voi conoscono questo titolo ma affidatevi È un capolavoro Penso che sia un bellissimo gioco Quindi ragazzi se volete Alice Madness Return scrivetemelo qui sotto nei commenti To The Moon Molti di voi sicuramente lo conosceranno come uno dei capolavori di quest'anno Mi sarebbe sempre piaciuto portarla sul canale Perché ragazzi penso che sia un gioco che merita veramente veramente tanto Quindi se volete To The Moon Scrivetemelo qui sotto nei commenti E come ultimo gioco Scribernaut Unlimited Mi è sempre rimasta la curiosità di provarlo Quindi se volete Scribernaut fatemelo sapere Va bene ragazzi ricapitoliamo Questi sono i 6 titoli di oggi E sono Dead Space Fear 3 Alice Madness Return To The Moon Hobbiscure 2 Scribernaut Unlimited Ragazzi mi raccomando scrivetemi le vostre due preferenze qui sotto nei commenti Magari scrivetemi anche perché dovrei scegliere un gioco rispetto all'altro Questo sondaggio durerà una settimana Da JohnnyLGD è tutto Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao